Ed in chiusura la pagina sportiva, il calcio si è completata la seconda parte degli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia. Ieri sono andate in scena tre partite, la sorpresa più clamorosa è arrivata da Firenze dove la Fiorentina ha battuto l'Atalanta per 2-1. Facili successi invece per Milan e Juventus, i rossoneri 3-0 alla Spal e i Juventini 4-0 all'Udinese. Si completa il quadro questa sera con la sfida delle Tardini tra Parma e Roma. Prima di ricordare i nostri prossimi appuntamenti vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa mattina il nostro telegiornale. Un attentato di Navitardi è venuto vicino a un centro per anziani questa mattina a Foggia. L'esplosione ha provocato il divelto della struttura, almeno per quanto riguarda la porta. All'interno c'era una donna delle pulizie che è in stato di shock ma è in condizioni certamente un po' di stallo. Ricordiamo anche che nel Milino era finito il responsabile di questo centro che aveva già subito un attentato di Navitardi lo scorso 3 gennaio. Per quanto riguarda i nostri prossimi appuntamenti sulle onde della radio, radio TRC questa mattina alle 10 appuntamento con Live Sport per la presentazione del weekend sportivo Ofantino. Per quanto riguarda invece il speciale News Web 24 prossima edizione del nostro telegiornale come sempre stasera alle 19. Grazie per l'ascolto e buona mattinata.